Continuano a crescere i casi Covid in Abruzzo, anche a Francavilla c'è stato un aumento dei positivi, situazione sotto controllo, che però voi state monitorando come amministrazione comunale? Sì, stiamo monitorando, c'è stato un aumento, proprio in questi ultimi giorni abbiamo avuto 8-10 contagi Covid, li ho contattati e li ho sentiti telefonicamente, la maggior parte di loro non è vaccinata. Chi è vaccinato era in attesa della terza dose, quindi era scaduto il periodo, erano passati sei mesi, ma comunque i vaccinati sono completamente asintomatici. Gli altri hanno dei piccoli sintomi, fortunatamente nessuno è ospedalizzato, quindi la situazione è sotto controllo, ma bisogna assolutamente insistere con la vaccinazione e con il rispetto di tutte le norme Covid. Siamo in continuo contatto con la ASL, ho chiesto che prevedessero delle giornate di vaccinazione anche a Francavilla e a breve mi daranno due date per il mese di novembre, quindi hanno accolto la nostra richiesta per evitare, soprattutto le persone anziane o fragili, si debbano recare al di fuori dei confini territoriali. In quanto riguarda le scuole non ci sono invece problemi particolari? No, mi pare che c'era qualche caso in una classe se non sbaglio, però è ancora tutto sotto controllo e soprattutto non ci sono problemi di ospedalizzazione, quindi andiamo nella strada giusta, ma dobbiamo spingere ancora l'acceleratore perché la percentuale è ancora bassa dei vaccinati. Si va verso le festività natalizie, si va verso anche il periodo più freddo dell'anno, sotto questo punto di vista c'è un pizzico di preoccupazione? La preoccupazione resta sempre, è sempre alta e quindi io invito sempre veramente alla cautela, all'utilizzo delle mascherine che insomma è uno strumento ancora fondamentale e dobbiamo assolutamente evitare di nuovi lockdown, ulteriori lockdown e quindi ripeto, ribadisco, lo dirò per sempre, secondo me l'unica strada è quella della vaccinazione, quindi ascoltate i vostri medici, chiacchierate, approfondite e vaccinatevi.